buongiorno siamo a questa seconda puntata del nostro podcast insieme a me Alberto Mingardi direttore dell'istituto Bruno Leoni buongiorno oggi raccontiamo di un termine divertente io potrei definire perché la prima volta che l'ho sentito era stato inserito in un commento in una definizione che il noto filosofo Diego Fusaro peraltro un amico assolutamente rispettabile ma con idee del tutto divergenti ecco da quelle che noi in istituto Bruno Leoni cerchiamo di promuovere mi aveva dato ecco lui mi aveva definita come la vestale dell'ordo liberalismo globalista una definizione bellissima secondo me meravigliosa di cui in realtà io vado molto orgogliosa perché all'interno di queste parole c'è sempre il termine libertà liberalismo quindi noi non possiamo che esserne orgogliosi però insomma Alberto che cosa significa ordo liberalismo è un termine che descrive qualcosa che esiste un termine fantasioso di che cosa stiamo parlando di che cosa stiamo pensando quando menzioniamo questo termine forse nella nostra lingua suona un po male ha un che di di minaccioso lordo liberalismo abbastanza un po quell'impressione fa venire in mente gli stormtrooper di guerra stellari quelle cose in realtà si usa questa parola per riferirsi a quello che in altri contesti e da parte invece di persone che apprezzano quell'esperienza anziché ritenere sia negativa si chiama economia sociale di mercato per economia sociale di mercato ci si riferisce diciamo così alle elaborazioni teoriche alla riflessione intellettuale che ha preceduto e in qualche modo ha aiutato il miracolo economico tedesco degli anni cinquanta come ricordiamo un po tutti la germania ovviamente per fortuna perde la seconda guerra mondiale esce dalla seconda guerra mondiale in condizioni veramente critiche e difficili è un territorio che viene diviso dalle due potenze che poi si disputeranno il mondo ma nella parte occidentale della germania a un certo punto si afferma come anche a dire il vero nell'italia dell'epoca una visione della politica economica che mette al centro alcuni concetti alcune idee una è la stabilità della moneta l'altra è l'importanza della libera concorrenza e l'altra ancora era l'idea espressa molto bene da ludwig herald con l'immagine che fosse necessario portare un frigorifero in ogni casa e lo scopo dell'economia fosse quello e non più invece come era stato in passato la militarizzazione della produzione quindi la terza idea era che il futuro della germania dovesse stare in un'industria importantissima tutt'oggi eccellente come ben sappiamo il cui fine però era venire incontro ai bisogni del consumatore queste scelte di politica economica che sono per l'appunto riconduncibili a una figura a erard se volete leinaudi tedesco sotto alcuni aspetti sono state in realtà precedute da una riflessione importante che ha inizio negli anni 30 di pensatori che rimasero ben incomprensibilmente spaventati innanzi prima allo spettacolo dell'iperinflazione e al successivo decadimento anche morale non solo politico della società tedesca e poi ovviamente rimasero devastati innanzi alla presa del potere da parte di adolf hitler questi pensatori alexander rustov walter troiken willem roep che in modo defilato ma lo stesso ludwig herald che era un economista lavorava sostanzialmente nel settore privato non era un economista accademico ma la sua formazione i suoi interessi erano comunque economici questi autori si pongono il problema di reinventare una riflessione un approccio liberale mettendo al centro il concetto di regola cercando di fare in modo che il potere sia quanto più regolato sia quanto più sottoposto a vincoli si capisce bene insomma ripensando alla germania di quegli anni da dove venisse loro l'idea per cui questa cosa mostruosa che è l'ordo liberalismo in realtà anche in questo caso è esattamente il contrario è un pensiero che si è sviluppato innanzi alla barbaria nazista nel tentativo per l'appunto di mettere finalmente la museruola al potere e di consentire lo sviluppo e la crescita economica proprio in un contesto di regole ovviamente noi non non lo ricordiamo sempre non è sicuramente diciamo così il fatto più importante dell'esperienza nazista ma il potere arbitrario spesso e volentieri diventa anche potere arbitrario in economia significa organizzazione irregimentazione della vita economica significa il massimo della discrezionalità da parte del decisore quando il decisore gode della più ampia discrezionalità quello che fa è che premia i suoi amici a scapito invece di chi tanto suo amico non è questo invalida diciamo così proprio le basi della logica economica queste sono dinamiche che la storia ha conosciuto che abbiamo letto in tante pagine di storia che vediamo anche nell'epoca contemporanea ecco quando lo stato effettivamente non ha limiti nella sua operato soprattutto in campo politico in campo economico effettivamente ci troviamo di fronte a scenari che conosciamo anche di questa epoca a quel punto di vista lì si capisce benissimo perché in italia non piace l'ordo liberalismo non piace perché l'idea che il potere politico sia sottoposto a delle regole e magari le rispetti pure ogni tanto non si limiti a dichiarare che si sottoporrà scusate a quelle regole al politico italiano non piace noi viviamo in un paese nel quale l'idea che ci siano delle porte nelle quali il governo non può entrare non piace mai al governante pro tempore e non solo viviamo anche in un paese nel quale il governante pro tempore il grande leader politico il capo carismatico propone sempre soluzioni immediate a qualsiasi problema e per poter risolvere qualsiasi problema ci dice ci spiega egli deve potere avere ancora più potere a sua disposizione anche nel dibattito di questi giorni questa è la regola purtroppo la regola di non avere regole di non averne infatti questo forse fa anche parte della cultura politica effettivamente di questo paese le scadenze vicine forse spesso le scadenze elettorali però nel tuo libro la verità vi prego sul neoliberismo si inizionano invece due policy makers li potremmo chiamare due capi di governo della nostra storia dello secolo scorso che invece hanno cercato di instaurare un sistema che mettesse dei paletti anche un equilibrio tra stato politica e mercato e questi due nomi sono ronald reagan e margaret toucher ecco io vorrei che alberto appunto che tu ci raccontassi il ruolo che hanno avuto nella promozione delle idee di libertà e quello che ci possiamo portare oggi a casa ecco come paese e come cittadini di un mondo che in questi anni ovviamente è cambiato ma che sta cambiando sempre più velocemente l'esperienza del lordo liberalismo per l'appunto è molto vicina in realtà a quella della toucher perché in inghilterra era accaduto dopo la seconda guerra mondiale esattamente il contrario di quello che era accaduto in germania la germania aveva perso la guerra ma conosceva in tempo di pace sviluppo crescita ottimismo miracolo economico tedesco per l'appunto l'inghilterra invece vince la guerra ma sotto alcuni aspetti perde la pace nessuno parla di un miracolo economico inglese degli anni cinquanta al contrario quello che avviene in quel paese è che proprio l'idea di essere riusciti prima a organizzare bene tutta la produzione al vantaggio di un singolo obiettivo chiaro vincere la guerra sconfiggere i nazisti grazie per averlo fatto sicuramente però l'idea è che proprio perché era erano stati capaci di fare quella cosa lì fosse possibile organizzare l'economia anche in tempo di pace quindi prima con un'amministrazione laborista molto efficace quella di clemenatly che vince le elezioni contro churchi no sappiamo questa cosa strana che tutti si chiedono come è possibile che gli inglesi abbiano votato contro un signore aveva combattuto da solo contro hitler per lo meno per per un anno e mezzo sia con quell'amministrazione laborista sia coi successivi governi conservatori ricordiamo per esempio che un primo ministro conservatore harold macmillan aveva scritto un libro che si intitolava la via di mezzo oggi si direbbe la terza via nella quale sostanzialmente proponeva una nazionalizzazione dell'economia britannica sicuramente non meno estesa di quella che avevano in mente i laboristi il libro che sale alla fine degli anni 30 ebbene questa mutazione dell'inghilterra a un certo punto chiama una reazione alla fine degli anni 70 l'economia inglese è stagnante c'è un periodo molto complicato l'inflazione è elevata i sindacati esercitano un potere molto rilevante anche perché per l'appunto alcuni degli snodi cruciali del mondo imprenditoriale e industriale erano stati nazionalizzati per cui innanzi diciamo così a una controparte che è un attore politico il potere del sindacato ovviamente cresce sempre più forte notevolmente in questo contesto il partito conservatore comincia a interrogarsi insomma su che cosa cambiare della sua storia che era stata identica a quella del partito laborista si muovevano delle cose c'erano delle esperienze anche di riflessione di proposte di riforma le più diverse senz'altro però quello che succede di rive avanti è che a un certo punto arriva una donna un outsider totale rispetto all'establishment del partito una signora che era la figlia di un droghiere come si diceva non in un'accezione positiva perché l'Inghilterra è tuttora ma anche allora era un paese dove c'è differenza tra chi è stato nell'università di Serie A e chi no c'è differenza tra chi viene da un certo ambiente familiare e chi no ebbene questa figlia di un droghiere fa un miracolo e riesce a diventare il leader del partito conservatore e poi addirittura primo ministro persino nel film di Mary Streep con Mary Streep sulla signora Tazza che per carità non è esattamente il Vangelo però ci sono delle battute molto interessanti e rivelatrici come quando lei dice per i miei compagni di partito farsi guidare da me è un po' come immaginare che la loro cameriera vada a fare il primo ministro quindi c'è un'ostilità fortissima nei confronti di questa outsider però proprio perché è un outsider lei riesce a cambiare la cultura del partito a scegliere come ministri persone che hanno l'obiettivo dichiarato di far fare un passo indietro allo Stato Jeffrey Howe prima, Nigel Lawson poi e questo passo indietro riesce a farlo fare come pochissimi altri in Occidente sono stati capaci mette sotto controllo l'inflazione, il monetarismo era una parte assai importante del suo programma e in questo c'è un chiaro parallelo con l'esperienza tedesca così come riesce a ricostituire condizioni di concorrenza e si arriva al punto che per la prima volta diventa di uso comune una parola privatizzazione che era più da romanzo di fantascienza prima che da cronaca politica perché le cose si nazionalizzavano sempre e non si privatizzavano mai detto questo la signora Thatcher non sfiora neanche vagamente il servizio sanitario nazionale per esempio l'NCS è al sicuro nelle nostre mani e è stata assai meno liberista di quanto pensino i suoi detrattori che sono convinti che abbia privatizzato tutto in Inghilterra no, le cose non sono andate così ma sicuramente ha privatizzato tanto ha dimostrato che con della volontà politica quelle cose lì si potevano fare ha cambiato profondamente quel paese trasformandolo in quello che l'Inghilterra è oggi quindi Londra come importante centro finanziario ma anche una classe media dinamica un paese di proprietari cosa che forse prima in Inghilterra proprio non era e ha rinnovato una grande tradizione una tradizione di indipendenza personale di spirito imprenditoriale che indubbiamente il paese che aveva inventato la rivoluzione industriale aveva da sempre lo fa facendo scelte di politica economica che vanno in linea di massima poi con tutti i difetti, i problemi delle cose umane però che in linea di massima spingono nella direzione di restituire un po' di spazio alla libertà economica un po' di spazio all'iniziativa individuale è un episodio talmente straordinario che continuiamo a parlarne ancora oggi di signore Thatcher di vestali del neoliberismo ce ne sono ben poche non c'è stato credo in Occidente un altro leader di governo che abbia fatto quel genere quel genere di cose forse proprio per questo se ne esagera l'importanza per cui i suoi detrattori ritengono che sostanzialmente tutti i problemi del mondo risalgano alle politiche economiche della signora Thatcher quando c'è stata la crisi finanziaria nel 2007-2008 autorevoli osservatori ne hanno dato la colpa alla signora Thatcher si collega anche alla prima puntata del podcast di cercare sempre un colpevole un colpevole però è un po' difficile cercare un colpevole che non è più al governo da vent'anni sì, ecco sorge qualche dubbio è un po' complicato io ho una sorella che è nata nel 1990 per me è sempre una bambina ma mi accorgo che ne è passato di tempo da allora la signora Thatcher e Reagan negli Stati Uniti insomma non sono più tra i vivi e da molto tempo non stavano più nelle cosiddette stanze dei bottoni i loro successori si sono talora ispirati ne hanno parlato bene negli Stati Uniti a differenza della Thatcher che è tutt'oggi una figura che divide profondamente gli inglesi negli Stati Uniti Reagan è un'icona nazionale Barack Obama maestro sempre della comunicazione ha sempre citato con affetto e ammirazione il grande comunicatore Reagan quindi è difficile insomma cercando un colpevole per cose che sono avvenute nel 2007 nel 2008 anche dopo trovare sempre quella figurina quelle fige Margaret Thatcher e Ronald Reagan leader diversissimi ma che sono stati uniti dalla storia poi ovviamente anche per il ruolo che entrambi hanno avuto nel crollo dell'Unione Sovietica e quindi Alberto abbiamo una domanda che sorge dopo questa analisi chi è stato più ordo liberale o chi è più ordo liberale nel tuo pensiero Margaret Thatcher oppure Ronald Reagan Margaret Thatcher ha fatto più cose e si trovava in una situazione molto più difficile l'Inghilterra alla fine degli anni 70 era probabilmente il paese più socialista d'Occidente Reagan aveva a che fare con un'America che sognava il ritorno dell'ottimismo il ritorno della crescita però era una situazione comunque incomparabilmente meno complicata rispetto a quella che affrontò la signora Thatcher e c'è anche da dire che Reagan purtroppo nonostante nelle sue esperienze precedenti avesse sempre sottolineato l'importanza di tenere in ordine i conti pubblici poi questo non l'ha fatto nel senso che l'esplosione delle spese militari ha portato a una crescita del bilancio dello Stato per cui lascia per l'appunto la macchina del governo federale più grossa di quanto invece non l'abbia trovata tra i due forse quanto invece a letture Reagan era quello di letture più ordo liberali o più liberali anche senza l'ordo sappiamo che gli piaceva leggere Bastia sappiamo che Reagan ha scritto tantissimo ci sono volumi e volumi per esempio delle sue lettere a Nancy con la quale era sposato e la quale mandava una lettera al giorno magari di poche righe ma scriveva continuamente è stato crocifisso perché era un attore ma in realtà non faceva più l'attore dagli anni 50 aveva fatto il governatore a California e alla fine degli anni 70 fa una serie di editoriali radiofonici molto bravo podcast lui era veramente bravo a fare queste cose e se uno va alla Reagan Library in California oggi può vedere tutti questi blocchi note gialli in cui lui si riscriveva dalla prima all'ultima riga questi interventi di 3-4 minuti si possono anche trovare su internet sono molto belli da ascoltare e vedendo questa cosa uno capisce quanto in realtà avesse pensato quanto avesse meditato su alcuni temi poi uno potrebbe dire forse se non è riuscito a fare tutto quello che voleva è anche un po' per via di una delle battute sue più famose quella nella quale dice il lavoro non ha mai ucciso nessuno ma perché rischiare ecco in realtà anche Reagan ha fatto indubbiamente cose straordinarie la potenza insomma della della sua comunicazione dalla voce a quello che diceva con quella voce è tale che ce la ricordiamo ancora oggi però credo ecco se dobbiamo mettere sulla bilancia le cose fatte la signora Thatcher ne ha fatte di più forse per quello è molto più odiata di quanto Reagan non sia tutto